Da sabato prossimo il candidato sindaco del PD Matteo Biffoni e i suoi busseranno alla porta di casa dei pratesi per ascoltare proposte, suggerimenti e anche la mentele. La campagna d'ascolto porta a porta è stata presentata stamani ai giardini di via Anita Garibaldi a Viaccia, uno dei 30 spazi verdi riqualificati in questi 5 anni di amministrazione comunale su richiesta dei cittadini. Ed è proprio da Viaccia che sabato partirà l'iniziativa. Una cinquantina di volontari divisi a coppie muniti di penna e cartellina con il nome del sindaco uscente batterà palmo a palmo il quartiere all'estrema periferia ovest della città suonando i campanelli di ogni casa per chiedere impressioni e idee, cosa va e cosa non va. Prenderanno appunti su quelle che sono tutto quello che il cittadino ha da dire sulla nostra città, da proporre, quello che pensa, quali sono gli obiettivi, quello che è stato fatto, quello che non è stato fatto. Insomma, è una vera e propria campagna di ascolto perché tutti gli strumenti li utilizzeremo, ovviamente quelli classici degli incontri, le associazioni in categoria, le associazioni organizzate. Ma quello che conta per davvero, in questo caso soprattutto dove c'è un lavoro fatto alle spalle, è un lavoro da fare, soprattutto ci interessa al futuro, incontrare davvero i cittadini, parlare con loro, avere con loro un rapporto diretto e dargli la possibilità di dirci quello che pensano della nostra città, tutto quello che hanno da dire. L'iniziativa proseguirà ogni fine settimana in altre zone della città. Bifoni quindi sta spingendo sull'acceleratore per sfruttare al massimo questo periodo di solitudine elettorale. Il campo al momento è libero e lo resterà ancora per un po'. Sia il centrodestra, le prese con la ricerca di un candidato che mette ad accordo tutte le anime, sia il Movimento 5 Stelle in attesa della certificazione di una delle due liste presentate, non sembrano infatti vicini alla soluzione. Bifoni facciamo la nostra strada, per il resto saranno loro come fare, quelli saranno i loro percorsi.